Il comitato scientifico di Dorelan è nato ormai da un annetto, è composto da diverse persone con diverse figure professionali, quindi abbiamo coperto la sfera della psicologia, le scienze dello sport, l'endocrinologia, la cronobiologia e la missione è quella di dedicare un servizio prettamente scientifico a questa azienda, alla Dorelan, per testare l'importanza dei materiali prodotti, come può essere quindi il materasso Reactive, per favorire il sonno degli atleti.